Il tuo lavoro può nascere dalle tue idee. È questo il messaggio che Confindustria Ascoli lancia ai giovani del territorio che in piena crisi economica, spesso delusi dall'assenza di lavoro, inseguono i loro sogni all'estero. Per stimolare l'imprenditoria giovanile, Confindustria Ascoli ha proposto quest'oggi il progetto Officina delle Idee, una sorta di bando dove i ragazzi potranno proporre idee che verranno poi rilanciate dalle aziende. Il progetto mira a creare opportunità di lavoro per le imprese del territorio, incoraggiando i ragazzi a presentare le loro idee ad una commissione che garantirà loro l'assoluta riservatezza del loro comunicato. E quindi saranno progetti che verranno esaminati da Confindustria. Sotto il patrocinio di Confindustria troveremo il sistema per coordinare questi ragazzi che hanno queste buone idee con imprenditori del posto e fare matching tra impresa e le idee stesse. Alla presentazione dell'Officina hanno partecipato i sindaci dei 33 comuni della provincia che, mediante un protocollo d'intesa, si impegnano nel supporto dell'iniziativa. Iniziativa che prevede anche la partecipazione della Cassa di Risparmio di Ascoli. Noi siamo a fianco a questo progetto perché un'idea che nasce e viene sviluppata per sostenere le idee dei giovani non può che essere ampiamente condivisa da quello che è sempre stato ed è l'istituto di riferimento per questo territorio. Insomma, con l'Officina delle Idee i giovani del Piceno potranno finalmente entrare nel mondo imprenditoriale. Vorremmo aiutare a far nascere una nuova piccola impresa, all'inizio naturalmente, stimolando i ragazzi, convincendoli che impresa si può fare e si può fare anche con pochi mezzi, con un piccolo sostegno, ma soprattutto con una buona idea.